Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento mensile con Elina, con Economista, mentre parlo il mercato è in fibrillazione, sta parlando Powell, ripresa la grande dei movimenti rialzisti, vedremo se sarà vera gloria o meno, comunque oggi dobbiamo fare un attimo il punto della situazione rispetto a quello che abbiamo detto a metà settembre di cui avevamo avvisato ovviamente di possibili pressioni di bassissima a fine settembre, ci sono state, abbiamo avuto il ripartenza a inizio mese ma non è stata completata e adesso dobbiamo parlare di cosa può succedere a questi mercati effettivamente e di questo ci occuperemo stasera e vi dico da subito che ci sono delle dinamiche che dobbiamo analizzare in maniera, non andremo troppo nel dettaglio perché purtroppo il tempo è sempre ingannevole, andremo a vedere soprattutto i grafici perché i livelli sono stati toccati ma non sono stati rotti su base settimanale, quindi il long non è ribartito come doveva e ci aspettano probabilmente settimane di continui alti e bassi, queste sono cose che succedono spesso in questi mercati e nella fase in cui ci troviamo sono cose che vengono comunque manipolate ad arte per confondere anche le idee, vi dirò un po' la mia idea, vi dirò comunque che secondo me bisogna muoversi in questo momento e poi vedremo ovviamente tutte le vostre domande, io resto a vostra disposizione, siamo in un momento chiave per il mercato, quindi è molto importante diciamo riuscire a capire in che situazione ci troviamo. Spero solamente che la maggior parte di voi abbia seguito, almeno ascoltato in parte quello che vi disse a luglio di aggiustare almeno il portafoglio perché poi di agosto vi disse saremo entrati in un mercato trading che ancora non ha dato un segnale di aggiustamento finale e quindi cometeranno a fare questi giochini che creeranno solo confusione, poi spiegheremo effettivamente che c'è una possibilità di ritardo nella ripartenza annuale ma per motivi soprattutto tecnici, non è detto perché deve finire il mese di ottobre, non abbiamo ancora concluso il mese di ottobre, l'ho detto anche sulla soft trading, dobbiamo vedere se tengono i supporti, sono tante cose da analizzare, quindi prima di andare a seguire un po' le notizie, la manipolazione che viene fatta ogni giorno, confusione, cerchiamo di concentrarci su quello che sta facendo il mercato e poi da lì cercheremo di capire come ci dobbiamo muovere. Detto questo vi invito a seguire con attenzione la discussione di oggi perché vi farò un po' il punto della situazione, quindi tolgo la telecamera e andiamo sui grafici... Aspettate... Adesso ho fatto le cose correttamente. Quindi andiamo ai grafici ma prima voglio ricordarvi che settimana prossima, il giorno 26, faremo dopo la BCE un'altra Scalping Live, abbiamo ottenuto ottimi risultati martedì scorso, quindi vi invito a partecipare se siete interessati a questo tipo di operatività e poi vi aspettiamo sabato a Milano, io ed Enrico parteciperemo alla Ranch Experience, quindi se qualcuno è in zona veniteci a trovare, ci sarà anche un regalo per voi, parleremo di stagionalità, credo che sarà molto interessante il sabato della prossima settimana e se volete informazioni potete andare sul sito investire.biz o iscrivere info.cela investire.biz. Salutiamo tutti gli amici che sono entrati in questo evento, oggi abbiamo 100 persone e più di 100, no scusate 150, non lo so, comunque vedo che il numero sale vertigisamente come la borsa quando parla Powell che fa i suoi capriccetti, quindi saluto tutti, vedo Alberto, Patrizio Attilio, Lorenzo, Gilberto, Remo e Lorenzo mi sta impegnando molto per la dieta, come se qualcuno ha visto lo speciality con Luca non mi ha chiesto lui perché ho detto io che stavo prendendo il farmaco tra virgolette miracoloso della Nova Nordisk, lo Zen Peak, ma sono sempre sotto controllo medico e sotto controllo della dietologa che mi segue sempre, quindi sto mangiando solo determinate cose, prendo degli integratori perché sto facendo molto esercizio fisico, quindi mangiando poco, fare 12-13 ore di lavoro come mio solito e dell'allenarsi non è proprio facile, quindi devo essere sotto controllo. Vi ripeto quello che vi ho detto con Luca, sì, il farmaco ha delle ottime proprietà ma va preso con un criterio sotto controllo medico, quindi spero che nessuno di voi debba arrivare a quello che purtroppo ho dovuto fare io e faccio mia colpa perché sono errori che ho pagato in tre anni di incuria personale, quindi si ammette un errore e si cerca di trovare la migliore soluzione possibile. Credo che l'anno prossimo mi troverete al mio pesoforma, dovrei riuscirci in 3-4 mesi poi. Poi vediamo, però la salute ovviamente viene al primo posto, altrimenti si fa una brutta fine, quindi mi raccomando ecco, vi porto la mia esperienza, purtroppo questo lavoro è molto molto elogorante e quindi bisogna trovare un equilibrio, bisogna essere bravi a gestire un equilibrio psicofisico. Ovviamente con i ritmi moderni e le tante preoccupazioni non è assolutamente facile, me ne rendo conto, però purtroppo la salute come il tempo sono i beni più preziosi, quindi dobbiamo utilizzarli bene. Io però ti ringrazio che lo hai notato e quindi spero di riuscire ad ottenere i risultati che voglio, ovvero stare bene fisicamente e mantenermi in salute per sempre, quindi grazie. Quindi andiamo un po' a... no, il farmaco non mi ha fatto nessun effetto, nel mio caso non ci sono stato, sì io non ho letto e bisogna stare molto attenti con questo farmaco perché sì l'effetto collaterale c'era, per fortuna, come Samantha dice, si è dovuto operare, io per fortuna non sono arrivato a quella cosa e quindi ripeto, poi l'anno prossimo avrò la chiarezza se sono riuscito a mettere definitivamente il mio corpo in ordine. Non lo so perché purtroppo con il farmaco non posso fare nessun tipo di analisi perché tiene tutti i valori sotto controllo quindi è sfasato. Prima di sei mesi non avrò idea di quello che ho fatto. La mia fortuna è che il farmaco non mi ha fatto nessun effetto collaterale, normalmente ti provoca stanchezza, nausea, poi vabbè ci sono casi più gravi ma bisogna prenderlo sotto controllo medico anche perché il difetto di questo farmaco che ti toglie praticamente non dico tutto l'appetito ma quasi. Quindi sto mangiando in un modo tale che quando finirò l'utilizzo del farmaco non dovrò più mangiare come prima altrimenti prendo il triplo dei chili che ho preso. Quindi è importante fare educazione all'alimentazione prima di abbandonare ovviamente l'uso del farmaco che poi mi tornerà l'appetito come prima e quindi dovrò cioè dovrò essere abituato a mangiare come sto facendo adesso dove prendo praticamente tutte le componenti alimentari però con un criterio con delle quantità giuste. Quindi come vedete in ogni caso quando si prende un farmaco, lo dico sempre ovviamente bisogna parlare con quello che gli esperti e farti guidare bene perché con il corpo umano non sappiamo mai quello che può succedere. Io per ora ripeto mi sento, ho un'energia che non sentivo da più di quattro anni, sto bene, mi alleno, trado pure meglio di prima, la verità, ho anche una sveltezza mentale in più, la verità, mi sento molto più appagato e la verità che sto veramente bene, ho ripreso una buona parte del tono muscolare, ovviamente ci vorrà, questo è un lavoro di almeno un anno e mezzo per mettermi sui livelli che vorrei, ma non c'è fretta, quindi si fanno le cose in maniera corretto, quindi grazie per chiedere, sono contento, ma vi ripeto è sempre una questione di salute, non certo estetica. Andiamo a noi e andiamo a vedere un po' Powell che ha buttato un po' sul mercato, poi lo butta giù, facciamo un attimo il punto della situazione che è molto importante perché oggi andiamo a vedere un po' questi indici che sicuramente non è cambiato granché, tra virgolette, e l'unica cosa è che c'è un problema sulla ripartenza annuale, nel senso, noi a settembre, noi quando ci siamo sentiti a metà settembre vi dissi che l'SP doveva per darci la conferma finale rompere questa zona qui per darci la conferma che il trend fosse ripartito, e disse anche che c'erano ottime probabilità perché eravamo proprio a cavallo di questo movimento, però vi dissi pure attenzione dopo Powell perché poi mancava una gamba ribassista, che poi è arrivata come al solito, li mettono sempre dopo questi eventi, dopo l'intervento di Powell, il mercato è crollato per 12 giorni in maniera piuttosto violenta, abbiamo perso più di 300 punti di SP, poi si è ripreso, giusto nel momento ciclico esatto, quindi a cavallo tra la prima e la seconda settimana di ottobre, e adesso sta lottando per non ritornare giù. Ovviamente ci sono dei motivi che non è certo la guerra in Israele per ora a creare questa situazione, mi avevo detto che c'erano due livelli chiave su cui bisognava ragionare, infatti li hanno rispettati bene, l'area dei 4200 era il supporto chiave su cui dovevamo stare molto attenti e 4105, queste erano le zone di liquidità più importanti, le zone volumetriche, è stata rispettata immediatamente la prima zona e adesso lottiamo sui 4300 che è un punto un po' intermedio da cui i mercati potrebbero ripartire, ma purtroppo c'è un ma, perché poi come vi dissi io lavoro sui movimenti volumetrici e sui posizionamenti e quindi se ci sono dei cambiamenti bisogna tenerne conto. Non ci sono ancora cambiamenti sostanziali, ma nel complesso il mercato si ritrova in una situazione molto pericolante, diciamo così, nel senso che in questo momento il mercato è in una fase in cui potrebbe non far più ripartire il rialzo di fine anno, o meglio ripartirà ma più lentamente e ripartirà molto più tardi. Sembra un'affermazione diciamo un po' pericolosa, ma in realtà non è così e vi spiego il perché. Ci sono stati dei cambiamenti che avvengono dal mercato dei bond. Prima di tutto dobbiamo partire da quel presupposto lì, ci sono delle cose che sono cambiate sostanzialmente perché in realtà la situazione viene proprio dal fatto che dopo il dato dell'inflazione abbiamo visto dei forti acquisti sul mercato dei bond, semplicemente perché i bond a lunga scadenza hanno delle opportunità molto interessanti. Il problema di fondo è che questi movimenti sono quelli che poi influenzano anche i prezzi delle azioni, sono quelli i rendimenti che poi si devono prendere per attualizzare i flussi di cassa futuri. Quindi il fatto di andare a comprare i bond a lungo, perché in termini di rischio rendimento l'investimento è molto interessante. Tenete presente che nello scenario in cui Powell andrà comunque a tagliare anche se di poco all'inizio i tassi e i valori che stanno scendendo questi bond, soprattutto quelli che vanno dai 10 ai 30 anni nel mercato americano, hanno dei potenziali ritorni incredibili. Nel senso che se voi calcolate uno scenario magari di 100 basis point e dovete immaginare che a partire dai 100 basis point di taglio, addirittura a 150 andremo a vedere un rendimento dal valore del bond che va dal 16% di media del bond a 10 anni, a 30 anni addirittura al 30%. È un investimento a 2-3 anni molto interessante. Quindi in questo momento ci ritroviamo in una situazione in cui il mercato vede un'opportunità e dopo quello che è successo nelle ultime settimane ci sono tanti dubbi se il mercato azionario ha ancora la forza per andare avanti, nel senso non che non possa salire, ma dobbiamo sempre ricordare che le grandi compagnie, i Magnifici 7, che costituiscono il 28% del mercato, hanno fatto il 92% del rialzo. In realtà sono fallite tante imprese, il 72% del mercato americano non è salito praticamente un cavolo e quindi che l'SAP sì, sicuramente ripartirà magari più lentamente, ma dovete tenere presente che in questo momento la situazione ha questo tipo di pressione. Quindi molti vogliono dormire sonni tranquilli, questo non significa che l'azionario non salirà, però dovete capire la situazione attuale. Molti vogliono dormire sonni tranquilli, quindi sapete come funziona, nel mercato azionario ci sono i sentiment, i flussi, le rotazioni, gli edging, le ricoperture, i fondi quantitativi, le anomalie che vengono dagli ETF e bla bla bla. In realtà comunque c'è ancora tanta liquidità nei mercati monetari, io ve lo dissi, ciclicamente il mercato dovrebbe salire, la liquidità c'è, ci vuole il passo finale. Il passo finale deve arrivare nelle prossime settimane, altrimenti questa situazione rischia di creare una fortissima lateralità e un mal di testa a tutti. Ovviamente per chi fa trading come me è una pacchia, perché questo sale e scende in maniera brutale ogni giorno, ma sostanzialmente le zone dove siamo è una zona molto pericolosa. Da un punto di vista tecnico l'SRP se dovesse tornare sotto i minimi del 9 di ottobre ci sono rischi di un ribasso di un 7-10%. Nel complesso parleremo di tornare intorno all'area dei 3.900-4.000 punti almeno. Questo non cambia però la tendenza di lungo. Devono cambiare anche altre condizioni. Però, nel senso, arrivati a questo punto, se Powell fa il gioco delle tre tavolette, si mette a tagliare i tassi addirittura alla fine dell'anno prossimo, invece di marzo, e quindi confermerà in quel punto la recessione. Allora lì il mercato sì che farà il famoso sell-off. Tenete presente che normalmente dalle politiche restrittive ci vogliono un paio d'anni di media, però la velocità con cui la situazione può degenerare potrebbe volerci molto meno. Quindi magari tagliamo i tassi dopo le elezioni, così abbiamo un bel segnale. E facciamo ripartire magari i mercati fra un annetto e poi questo lo lasciamo un po' tra il sale e scendi. Io ovviamente, vi ripeto, questa è un'ipotesi che ci sta. Io ovviamente mi devo, nell'analisi mi devo basare sui fatti statistici e sui fatti volumetrici, però dovete anche capire che è un'ipotesi che può portare a uno spostamento dei rialzi. Allora che cosa dobbiamo vedere in questo momento? Voi dovete calcolare che il primo novembre c'è la riunione di Powell e quindi il meeting di Powell magari lì fa un ulteriore rialzo dei tassi, non lo posso escludere ovviamente, però dovete tenere presente che se lì magari spinge di nuovo la situazione non è delle migliori, quindi si possono creare poi delle situazioni poco divertenti, tra virgolette. Quindi il mercato è un po' tenso perché c'è la guerra in Israele che comunque può degenerare. Tenete presente che nella zona del Medio Oriente c'è un terzo della produzione mondiale di petrolio, quindi proprio qui vicino dove sto io a Dubai c'è lo stretto di Hormuz che sarebbe quell'apertura tra l'Arabia e l'Iran che porta il Golfo Persico nell'Oceano Indiano. Questo è importantissimo, questo stretto perché passano poi le navi piene di petrolio che arrivano da Bahrain, Kuwait, Arabia Saudita e quindi in caso di guerra se l'Iran magari decide di scendere in campo, poi scendono negli Stati Uniti, Biden gli hanno sbattuto le porte in faccia in Giordania, c'è un po' di escalation, di norma queste cose restano qui, però dovete tenere presente che ci sono dei rischi che poi avrebbero delle ricadute molto forti anche sull'economia europea, più di quello che già si sta soffrendo. Quindi è una situazione ampiamente difficile e ci tengo a dirvi che in questo momento quello che sto notando è che diciamo il nuovo Covid potrebbe essere il terrorismo, l'escalation meglio dire, le guerre, quindi vedete la Russia, poi si va in Israele in una zona tipicamente calda e poi non so dove. Quindi questa situazione porterà a delle cose molto chiare da un punto di vista degli investimenti che poi andremo, alcuni strumenti che stanno andando bene, c'è un perché e vi dirò anche un po' cosa ne penso, quindi innanzitutto già avete capito questo contesto, chi spadroneggia saranno oro e bitcoin ovviamente, quelli sono di materie prime in generale, magari anche il rame potrebbe riprendersi, il petrolio, l'argento, questi saranno grandi acquisti, vedranno grandi acquisti, più di quello che avete visto in questo nome. Non è solo legato alla guerra, è tutto un sistema che deve cambiare, per cui è una situazione molto difficile ed è una situazione che può portare a dei posizionamenti molto interessanti. Dovete vedere questa situazione come un passaggio obbligato, io vi ripeto, non vedo ancora il famoso ribasso di cui si parla tanto, lo posso vedere solo se una di queste zone viene lasciata con forza, allora in quel caso succederebbe questo, magari i mercati allungano il ribasso fino a fine novembre, quando statisticamente fine novembre, metà dicembre parta diciamo il famoso rally di Natale, ma magari sarà più debile, ma il mercato riparte, ma nel lungo termine per ora non è cambiato niente. Poi vi ripeto, il rimbalzo che c'è stato qui tra il 6 e il 9 è comunque ancora valido, quindi al di là di quello che sta succedendo adesso, che parla Power, il mercato sale, tutto bello, no? Il problema è che dobbiamo sì o sì, prima di tutto uscire da questo range, bene, poi dobbiamo ritornare almeno sopra i 4.000, in quel caso voi avrete una conferma statistica forte che il mercato sta per ripartire, in quel caso diciamo che rispetteremo la stagionalità, rispetteremo i posizionamenti, entrerebbero flussi, tenendo sempre presente che per fine anno vanno presentate un po' di performance ai propri clienti, quindi ci sono molti fondi che ne sono sottopesati di azionario, cercheranno di entrare, ci sono comunque le trimestrali che non stanno andando affatto bene, le big cap dovrebbero presentare dei valori molto buoni e sarà un ulteriore boost per il mercato azionario. Io vi dico, ovviamente poi andremo a vedere mese e mese, nel questo momento c'è il rischio di posticipare il rialzo dei mercati magari a fine novembre invece di ripartire adesso. Questo lo devo mettere in conto, non posso ancora parlare di inversione di trend o cose di questo tipo perché sarebbe folle e non esiste perché poi c'è il mercato dei bond è in saturazione e ovviamente se andiamo a vedere il problema di fondo è quel 5%, io in parte sarei anche contento perché a me quello che farebbe piacere è vedere un sell off magari di 10-15 giorni, vedete, e dare spazio poi a una situazione in cui i mercati cominciano veramente a salire, ma in realtà sopra il 5% entrerebbero poi in gioco delle forze, dei tecnicismi che obbligherebbero poi una marea di derivati a entrare con clausola knock-in, quindi sarebbe un bel problema di pagamenti e quindi quello che devo comunque dire è che in questo momento la situazione è quella di cercare in qualche modo di tenere presente il fatto che il mercato in questo momento ha tutti gli spazi per ripartire, ma deve farlo bene, nel senso da un punto di vista tecnico qui abbiamo il punto chiave che fu il 20 settembre, dobbiamo tornare al di sopra di questa zona almeno, allora lì se chiudo settimana sopra questa zona avrò qualche postità, fino a quando fanno questi giochini poco c'è da fare, è un mercato trading, cioè non è cambiato molto rispetto all'ultima volta, ve lo disse ad agosto, a settembre gli dissi se rompe questa zona riparte, però state attenti a fine settembre, hanno portato tutto da manuale, stanno ripartendo ma ci vuole molto di più, quindi quando io vedo queste cose ovviamente non posso ovviamente che dire che in questi casi bisogna stare molto molto attenti, ovviamente perché il mercato in questi casi ha delle situazioni in cui non riesce ovviamente poi a stabilizzare un trend preciso, noi non abbiamo un trend preciso in questo momento, è giusto dirlo, non ce l'abbiamo perché il mercato in questo momento non ha trovato ancora la forza per fare un lavoro di accelerazione, diciamo al rialzo come si deve, questi movimenti su e giù a noi non interessano perché non è quello su cui io vado a puntare quando facciamo un incontro mensile proprio per questo, quindi quello che voglio raccomandarvi è di stare molto attenti, ci sono anche rotazioni settoriali e si sono comprati, il settore energetico viene comprato, si è venduto un po' di tech e questo lo dovete sapere perché sono usciti molti soldi dal settore utilità e stable che era quello che era più stabile per andare sui bond, quindi temporaneamente c'è la voglia ma non c'è ancora quella forza necessaria per dirci compriamo perché il mercato va, sarà ancora un mercato molto nervoso e da un punto di vista ciclico può ripartire ma potrebbe anche ripartire fra due mesi, magari fa il super missile che tutti si aspettano, magari lo fanno a Natale oppure ripartirà più lentamente, in ogni caso un crollo dei mercati in questo momento non lo vedo tanto fattibile per tanti motivi sia geopolitici che economici però che crolli magari un altro 7% oppure 10% non cambierebbe la struttura ma ci sta, probabilmente la verità sarà nel mezzo, faranno molta lateralità, vi faranno esaurire abbastanza perché poi il gioco è soprattutto quello per poi ripartire con più calma, ovviamente non ho cambiato la mia view, ci tengo a dirlo perché poi magari qualcuno dice ho cambiato idea, si tratta di aggiustare un po' il tiro, a ottobre è ripartito come doveva ma non è ancora spinto come si deve, magari lo faranno a fine mese, a inizio novembre, dobbiamo tenere un po' di pazienza, poi quando ci rivedremo il mese prossimo vedremo la situazione, l'unica cosa che vi raccomando occhio perché se poi prendiamo uno di questi minimi la cosa potrebbe peggiorare, magari arrivare a scendere in delle zone importanti come avvicinamento all'area dei 4.000 entro un mese e mezzo potrebbe essere fattibile, vi consiglio di stare molto attenti, è ancora un mercato training, utilizzate le trimestrali magari, io già mi sono posizionato un po' su Microsoft Google perché nonostante Nvidia che ha preso una bella maziatina soffre perché il signor Biden deve mettere gli embarchi c'è una specie di guerra dei chip tra America e Cina, quindi hanno perso il 25% del fatturato, chi usufruisce dell'intelligenza artificiale per scopi software come Microsoft Google ad esempio potranno avere degli ottimi benefici, quindi fin quando queste azioni non crollano veramente è un po' difficile anche perché i flussi arrivano innanzitutto dal mercato retail, è arrivato addirittura al 40% del mercato, quindi a meno che non si voglia buttare tutta la borsa giù sul serio, devi buttare giù queste sette compagnie, quindi queste sono opportunità, ovviamente sempre a lungo termine, poi secondo me i problemi cominceranno a partire dal 2025 al 2026, ma prima di arrivare alla vera recessione, però dobbiamo tenere presente che c'è l'anno presidenziale, quindi ci saranno molte turbolenze, io questo diciamo è un po', ho fatto un riassunto, poi la questione dei tagli che poi quando c'è recessione taglia scende il mercato, questa la lasciamo un po' più in là, c'è ancora tanto in recessione effettivamente non c'è ancora, il mercato va lento perché non abbiamo una recessione al 100%, come dovrebbe essere, quindi tutto quello che sta succedendo in realtà non cambia niente, diciamo che una cosa però vi voglio dire, e questo è importante, se dovessimo rompere quel 5% entro domani, per il bond a 10 anni, potrebbero entrare questi scatti, questi knock-in si derivati, si mettono pressionesi portafogli, quindi vedremo delle vendite piuttosto corpose, quindi anche sulle azioni, lunedì che c'è una post scadenza opzioni potrebbe partire poi un altro sell off, quindi non vi fate ingannare da tutti questi sali e scendi perché in realtà il mercato deve ripartire, deve farlo al più presto, altrimenti se a fine mese arriviamo sotto il minimo del 9 di ottobre la cosa potrebbe spingere ultimamente al ribasso, con tutti i dovuti pullback, ma dovremmo aggiungere questa percentuale potenziale che porterebbe l'SP ad avvicinarsi a 4000 punti. Per gli amanti di Tesla volevo fare giusto un appunto, ma proprio perché sono andato a guardare due minuti per poi andiamo a guardare direttamente i grafici, sono andato a vedere un po' la sua situazione, è tutto con l'imacolo, quello che io ho sempre pensato. Il signor Musk ha dovuto fare dei tagli corposi sui prezzi, perché vuole cercare di arrivare a consegnare quasi 1,8 milioni di auto entro la fine dell'anno. La situazione non è proprio bella perché questo castello di carte, comunque alla fine questo fa le macchine, ora ci metti robotiche, bitcoin, ma tu alla fine produci i macchine. Quindi vorrei comunque dirvi che in questo momento il problema è che a forza di tagliare i prezzi, perché vuoi vendere più macchine ma abbassi la tua marginalità, sono andate a un po' di grafici e sono arrivate addirittura dal 30% dell'anno scorso al 15%. E in pratica per farvi capire la situazione qual è, cioè Musk praticamente stanno ridotto, cioè stanno tagliando costi dappertutto, non si sa più che tagliare ma non c'è più spazio. Non parte l'impianto in Messico, il Cybertruck avrà un effetto sull'impresa a livello di ritorno almeno 5,18 mesi. Il modello 3, quello che io vi ho detto ho avuto la prima volta nella mia vita, ho provato la claustrofobia dentro una macchina, cosa che non mi era mai successo. È sotto il prezzo di una utilitaria media 6.500 dollari. Cioè praticamente stiamo parlando di una Tesla che costa quanto una Toyota, una cosa un po' ridicola, ma è così. Se non aumentano le quote di mercato, la Tesla ha dei problemi grossi. Questi tagli all'azienda costano più di un miliardo di dollari e quindi se i margini ovviamente continuano a scendere, il valore attuale di Tesla non è accettabile. Quindi Tesla diventerebbe interessante solo se va sotto i 100 dollari. Allora là possiamo cominciare a ragionare. Questo è il mio pensiero, questi sono gli studi che ho fatto, ecco perché non l'ho mai messo nel mio portafoglio. Poi ho sbagliato, non ho sbagliato, ma ho comprato aziende che mi hanno dato e mi danno soddisfazioni come Big Cup, come Coca-Cola o tutta questa barahonda di Magnifici 7, Amazon eccetera. E ve lo volevo dire non perché Tesla non si può comprare, poi magari sale perché sale il mercato, ma comunque alla fine i multipli parlano chiaro, se tu non guadagni io che cosa devo comprare qua? Un'azione che costa 200, quale ne vale 50? Ci devo sempre un po' pensare bene prima di fare queste cose. Siamo parlando di portafoglio, non di speculazione. È giusto che lo sappiate. Quindi andiamo a vedere adesso la situazione, cerchiamo di capire un po' la struttura di mercato che comunque tra tutte le sue fasi speculative rimane ancora purtroppo ancora dal ribasso. Passo un attimo al Nasdaq, che è qui il Nasdaq, vedete, lotta a tutti i costi. Noi stavamo, non mi ricordo quanto era, era il 20 settembre più o meno. Comunque vi dissi che questa era una zona chiave, vedete, l'ha abbandonata e poi si sta ritornando. Tutti i costi c'è una lotta qua sopra, non ne vuole sapere. Il Nasdaq è essenzialmente a corretto, ma non è che chissà che si è sfracellato, cioè sta sempre là. Il problema è la zona dei 14.800 più o meno. Se cominciamo ad andare al di sotto su base settimanale e a parte poi ovviamente questo minimo, ma poi c'è il rischio di vedere magari la zona dei 14.000, 14.700, almeno questo è ampiamente possibile. Quindi anche qui occhio perché se i 15.300 non li recuperiamo, almeno su base settimanale, c'è il rischio di vedere una caduta importante. L'obiettivo rimane sempre quello che vi ho detto, sia sull'SP che vedo i 5.000, sia sul Nasdaq i 20.000, sono sempre obiettivi possibili, sempre che le ripartenze siano fatte con grande spinte, cose che i soldi ci sono, devono solo entrare e devono cambiare un po' le condizioni di mercato. Se non succederà, amen, non è un problema anche perché ogni risalita ha delle condizioni precise basate su livelli importanti. Il Nasdaq deve rompere i 15.500 su base settimanale, allora sì, possiamo andare a attaccare almeno i 17.000. Il Dow è in una situazione leggermente più complicata perché gli trimestrali sono andati veramente bene, ma la lateralità è bestiale. C'è da dire però che questi 32.800 che abbiamo toccato, proprio a qualche giorno fa, devono essere monitorati con moltissima attenzione. Io vi dissi che questo era il livello annuale, il Dow ha fatto un ribalzo logico, ma in realtà non è cambiato niente perché il mercato è ancora pesantemente short. Vedete, ha parlato Pawe, l'hanno fatti, si sali e scende, e ora torna a scendere tutto con più forze. Quindi, come vi ho detto, dobbiamo tenere presente che c'è questa possibilità che il Dow arrivi qui e possa anche rompere. In quel caso si possono scendere altri 800 punti. Se il Dow non fissa bene i 34.000 su base settimanale, non si sale. Partiamo sempre dal presupposto, vedete, i livelli io non li tocco mai, sono sempre gli stessi. Poi queste zone fanno da tappo e mi rendo conto che non posso andare oltre se poi i mercati fanno una cosa di questo tipo. Quindi è giusto dire che in questa situazione non possiamo certamente sperare di vedere dei rialzi che poi possono portare a dei recuperi importanti. Quindi per ora ci tengo a dirvi che non ci sono ancora le condizioni tecnicamente per far ripartire i mercati, cioè a livello proprio volumetrico, sono andati a toccare con una precisione quasi matematica le grandi resistenze, ma non le hanno rotte. Quindi quando voi vedete una situazione di questo tipo, dove i mercati fanno questi giochini del suo e giù, alla fine non abbiamo risolto assolutamente niente, per cui in questo momento non ho il segnale rialzista finale. Se rimaniamo sopra i 34 minuti, base settimana e comincia a accumulare, comincia a scendere, fa quello che gli pare e piace, allora vedrete delle possibilità notevoli. Io in questo momento ovviamente vi posso dire che non ci sono, ve lo confermo, perché vi dissi anche nelle scorse settimane, se rompono le resistenze è fatta, non l'hanno fatto. Quindi per ora tutto è stand-by, anche il DAX, vabbè, il DAX è messo molto peggio, poi abbiamo finalmente avuto la rottura dei 15.468, lo vedremo a settembre, il ritesta e i mercati adesso vanno verso i 14.833, i 700, dove dovrebbe fermarsi e ripartire. Quindi per ora short è stato confermato, vi ripeto, non ci sono ancora situazioni tali da permettere il rialzo dei mercati, quando vedete si spike al rialzo che poi vengono assorbite rapidamente, come hanno fatto adesso, che si vedeva proprio che era un fake, grande come una casa, buttare un mercato in quel modo su, poi non può risalire in maniera congrua. Allora poi vedete, diciamo, una situazione che è difficile da gestire e vedete poi una situazione in cui i mercati non possono poi ripartire nella maniera che dovrebbero. Per cui anche qui, poi per l'Europa ovviamente la situazione magari ve la risparmio, perché c'è poco da stare allegri. Io proprio un'altra volta ho sentito Zio Mario che diceva che la crisi che ci sarà in Europa porterà l'Europa a essere un po' più unita. Anche queste parole ve li lascio alla vostra interpretazione, capirete qual è la preoccupazione, ma in ogni caso non c'è molto da dire. In ogni caso l'unica cosa che vi posso ricordare in questi casi è che bisogna stare molto molto attenti alla situazione che ci sta profilando, perché crisi energetica, qui abbiamo il fatto di Israele, comunque c'è vicino, anche i posizionamenti, diciamo, come posso dire, in termini di posizionamenti proprio geopolitici, ovviamente l'Europa andrà sicuramente con Israele, non va certo con i terroristi, tra virgolette, e porterà ovviamente poi a una situazione di studio, perché non abbiamo ancora chiaro se poi questa situazione porta a dei riflussi anche noi, anche i fatti di Bruxelles ci devono comunque far pensare, perché potremo assistere in tutta Europa un'andata di questo tipo. Non sono partidario di nessuno dei due, la guerra è guerra e io la schifo a priori, non faccio una questione politica, ne faccio una questione puramente politica ed economica, quindi avremo nuovi flussi migratori, questo lo dovete immaginare, avremo una situazione molto difficile da gestire, perché noi in Europa non stiamo producendo più niente, i tassi rimangono così, si rischia ulteriori rialzi dei tassi, perché se le cose vanno male, cioè l'inflazione va fuori controllo, c'è questo rischio, lo dovete sapere, quindi l'Europa potrebbe soffrire molto di più. Vi ripeto, al di là dei fatti macro, graficamente posso anche prendere il Fuzzi Mib, vediamo un attimo perché non vedo problema, non mi ricordo qui com'era, Mib, sì Italia, anche l'Italia io rimango positivo ovviamente, ma non perché non posso arrivare a 30.000, ma bisogna capire se l'area dei 27.000 mantiene, ovviamente se non lo fa, un crollo sui valori di maggio sono fattibili, per cui abbiamo bisogno di un ritorno sopra i 28.500, quindi avremo già una forza maggiore. Vi parlo da un punto di vista tecnico, io cerco di farvi anche il quadro della situazione, ma non dovete usare questo per investire, dovete capire come si sono mossi gli operatori in questo momento, ecco perché state vedendo questa situazione, piena di tecnicismo. Poi tutto può cambiare da una mattina alla sera, è bene che lo sappiate, sapete che è possibile, quindi vi ripeto, la base di tutto è che c'è questo rischio, quindi dove stanno andando gli investitori? Eccolo qua, il re, l'oro, tempismo perfetto, recupero, noi stavamo qui a metà settembre, vi dissi rottura dei 1.870, era il primo target, occhio che poteva addirittura avvicinarsi al 6.800, lo ha fatto, ha ritornato su, long pazzesco che potrebbe addirittura andare ad attaccare i massimi storici e romperli già nelle prossime settimane, non lo posso escludere. C'è un target intorno ai 1.977-2.000, che sono le prime zone diciamo di controllo, ecco, non, io ho dei livelli, ma sono interme diciamo di 1991-1977, però questa è un'inversione a V a tutti gli effetti, sì, la guerra, i rischi di geopolitici, ma anche il fatto che con il decennio inflazionale che abbiamo davanti, qua bisogna proteggere i propri soldi, quindi l'oro probabilmente è partito a tutti gli effetti. Ci sono delle incongruenze perché questa c'è anche una manipolazione a rialzo che viene dalle banche che non sono europee, quindi c'è anche interesse istituzionale, quindi l'oro potrebbe fare finalmente quel passaggio che si aspettava da 4 anni, arrivare ai 2005, primo target, quest'anno potremmo chiudere sopra intorno ai 2002 e via. Poi se dovesse scendere magari torna ai 1.764-1.7 allora potremmo comprare anche a prezzi migliori, ma l'oro in realtà dovrebbe essere partito a livello decennale per fare dei rialzi, vedere numeri stratosferici nei prossimi 6-7 anni. Non è ovviamente da escludere di vedere ulteriori rialzi, ma magari anche i ribassi saranno comunque contenuti, tenere presente taglio dei tassi e poi il bond a questi valori va fuori controllo, poi qualche cosa fanno, i soldi dove vanno dopo i bond, andranno qui. E poi nel Bitcoin che sta andando come il vento, perché poi è arrivata la notizia che la Fed, il BarClock sta effettivamente lavorando con la SEC per la produzione dell'ETF, ma al di là di questo abbiamo l'Halving, abbiamo anche il ciclo rialzista, su cui vi avevo già accennato che doveva essere ripartito l'anno scorso, poi abbiamo avuto degli aggiustamenti, se vado a vedere un attimino l'ipotesi, dovete tenere presente che io continuo ad avere il mio target intorno ai 35-40 mila entro marzo e aprile dell'anno prossimo. Per cominciare normalmente dovete capire che il ciclo del Bitcoin funziona in maniera piuttosto massiccia, vuol dire che normalmente circa sei mesi prima dell'Halving normalmente si recupera più o meno circa una metà del ciclo del massimo precedente, quindi se il massimo è stato circa 70 mila il prezzo che vediamo adesso è un prezzo diciamo molto vicino a questo massimo, in realtà un po' più del 50% dovremmo parlare dei 40 mila, quindi non vedo il problema ad arrivare lì, poi vedremo se possiamo andare oltre, ma in realtà i numeri che potrebbero raggiungere Bitcoin potrebbero essere stratosferici. Il problema è capire se il market cap continuerà a salire, quindi diciamo che dovremmo raggiungere i 10 trilioni di dollari da quello che ho visto, è una cosa pazzesca, in questo caso ovviamente parliamo di valori superiori ai 100 cap. ovviamente non andiamo di fantasia, però l'accumulazione in corso, anche se dovessimo toccare i 20-23 mila non cambierebbe la situazione, i 40 mila sono un obiettivo fattibile, poi andremo a fare un po' di voli pennarici, però ripeto a livello ciclico il raggiungimento proprio di questa zona è ampiamente possibile, non vedo grossi problemi in sei mesi, poi magari ci arriva anche prima, se questo poi parte potete immaginare quello che può fare, quindi accominciamo da questo valore, poi si vedrà l'area dei 28 mila recuperata su base settimanale si è confermata anche la prossima settimana, è un grandissimo segnale rialzista, potrebbe iniziare il percorso verso questo livello. Il supporto chiave è l'area dei 23 mila e 500 per ora, però anche se ci dovesse arrivare comunque un mercato spento laterale, non è che chissà di problemi, non stiamo parlando di chissà quale numero, perde 20 mila, siamo sempre lì. Per quanto riguarda il dollaro, la situazione del dollaro è tutta proporzionata alla politica monetaria della FET, questo lo dovete sapere perché poi effettivamente la risalita del dollaro è stata pazzesca, non è cambiato ancora nulla. Ci sono dei rischi che dovete seguirlo con attenzione che il dollaro possa fare uno spike e cominciare magari a volare oltre i 108, in quel caso occhio perché può fare uno spike potentissimo. Se torna stabilmente sotto i 105 la situazione si calma, ma si calma solo se la FET dà qualche segnale molto più stemperato che praticamente fa capire che vanno a tagliare i tassi già a marzo, come tutti stanno ipotizzando. Se non c'è un cambio di politica monetaria, sto dollaro difficilmente può scendere per ora. Quindi l'euro, la sterline e compagnia stanno belli messi male, l'euro dovrebbe in tutti i costi mantenere un 105, speriamo che lo farà, se non lo fa un 103 poi c'è un baratro sotto. Ma per fare il baratro il dollaro index deve fare qualcosa di eccezionale. Il problema della sezione europea, quella inglese, è veramente pessima. Avrete visto i dati dell'inflazione stabile, ma siamo sopra il 4%, in Inghilterra siamo a 6,7, qui probabilmente andremo ad avvicinarsi a 1,18. Tornerò pesantemente rialzista, solo se almeno 1,2370, 1,233 viene recuperato, soprattutto 1,24, così come sull'euro, ho il livello chiave 1,07, ma, aspettate che lo riprendo, 1,07, ma avrò bisogno poi di una spinta superiore. 1,0660 è già un bel livello da cui lavorare. Detto ciò, vado a guardare un momento le vostre domande, così cerchiamo di rispondere a tutti per chiudere, e vediamo. Comunque io, quando facciamo stelline con l'economista, i mercati sono un file, come si dice, no? Vediamo una bella partecipazione, quindi vediamo, speriamo che il movimento di oggi possa essere magari quello che stiamo aspettando, io me lo auguro anche perché ho una fame di azioni enorme, voglio comprare molto di più, sono molto contento sull'oro, su cui ho appuntato sempre con grande forza, sulle cripto anche, quindi potrebbe iniziare un bel movimento, potrebbe iniziare qualcosa di molto importante in questo momento, quindi tutto dipende da quello che, diciamo, può fare il mercato nelle prossime due settimane. Vado a leggere un po', continuiamo un po', vado dal basso, così cerco di vedere la situazione. Allora, fine anno abbiamo detto come andrà, vi ripeto, dovete aspettare il setup del 30. dovete guardare dei dati che vengono pubblicati sui siti specializzati come Bloomberg e altri, poi potete, Finbiz, ce ne sono tanti, dove potete guardare come muovono gli spostamenti. Allora, lasciate stare le news su Bitcoin, ho risposto? Sì, Ethereum rimane sempre appetibile, ci vuole un po' più di tempo, ma su Ethereum anche io sui miei investimenti non lo mollo in questo momento. se Bitcoin arriva a 40.000, Ethereum arriva almeno a 3.000, per la felicità di tutti. Non so qual è la situazione, ma lasciate perdere le news. In realtà, qua è una questione di cambiamento magro e di flussi monetari, se entrano i soldi, comunque lì non è che si è esposto, cioè non è che sono stati chissà quali venditi, c'è stato qualcosa, ma tutto si è giusto in pochi minuti. Su Tesla vi ho risposto un'analisi su AMD, mi chiede Luca, il Nasdaq ha corrisposto, su Tesla abbiamo visto, volevo imparare sul Biotech americano, sui livelli del gas e medio, su Biotech la verità non ho ancora preso in mano la situazione, quindi magari ne riparliamo in qualche altro intervento, anche perché mi restano pochissimi minuti. Il lusso è sempre interessante, non c'è dubbio, 13.900 Nasdaq, se c'è la voglia, pure 13.700, e su AMD, velocemente vado a vedere, prendiamo un attimo un grafico, non voglio che c'è tutte le analisi per non perderle, su AMD, ragazzi, i semicondettori purtroppo c'è un posto, è sempre Biden che deve dare fastidio a tutti, i prezzi però rimangono stabili, io su AMD mi pare che già me l'avevano chiesto, sembrava era su un fondo bello, comunque dovrebbero rompere almeno i 110 per stare tranquilli, 110-107, questo è quello che ti posso dire, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista fondamentale, non è male, ma la situazione che ha creato Biden con i semiconduttori, va un po' a stemperare. Marco, non posso leggere il tuo commento, sì, tutta l'Europa se lo prende in saccoccio, ho tradotto per il loggione, e non posso leggere quello che è scritto, non è il caso. Vediamo un po'. I bond a lunga scadenza sono invitati ancora per un bel po', secondo me. Sì, ci può essere questo forte calo, ma non so fino a quanto, anche perché se andiamo oltre la soia del 5%, comprare il debito americano diventa una scommessa. nel senso, poi anche lì, possono crearsi situazioni molto complicate, un discorso lungo, su cui ritornerò, però dovete capire che non è poi una cosa, cioè, pagare quei tassi di interesse, si stampa quello che volete, però si rende la struttura più fragile, questo lo bisogna dirlo, quindi più soggetta, poi a cadute molto più forti, anche sui mercati nazionali. Il petrolio, ah, il petrolio non l'abbiamo visto, adesso lo vediamo, anche qualche altcoin ce l'ho, sembra probabile un taglio nel meeting di Finu, sì, sì, Gilberto, però ti ripeto, non mi piace dare le date, vediamo, il gap sull'oro verrà chiuso presto, me lo auguro, così compro di nuovo a Mina, la Cina si sta riprendendo bene, vedessi che a fine anno poteva dare dei buoni segnali, gli ultimi dati sono stati molto buoni, il PIB è aumentato a 0,4 su base trimestrale, tutto è salito, produzione industriale, vendita dal dettaglio, quindi molto interessante. Allora, se andiamo in recessione, si tagliano i tassi, sì, e i bond salgono i pezzi, quindi sì, è un affare. comunque, nel breve, ma per fare trading, non per tenerseli attenzione, Lorenz, non mi tengo un bond, se andiamo in recessione, qualche paese può saltare, o possono fare aggiustamento, ovviamente gli Stati Uniti no, però, dovete sapere, l'oro lo potete comprare, in diversi modi, oro fisico, strumenti ETC, di solito consiglio l'oro fisico, ovviamente, che è la cosa migliore, da un provider, ovviamente, certificato, ed è la cosa migliore, una parte, ovviamente, del vostro portafoglio. Poi abbiamo, il petrolio, scusate, mi ero dimenticato, avete ragione. Ragazzi, il petrolio, io vi dico un po' la struttura che ho, anche il natural gas, che mi avete chiesto, ne parlamo proprio su Auto Trading, vi dico proprio, Durante aveva un obiettivo, più o meno, uno del mio, 3,70, ci sta, però, dovete comprare, quando spingere su, adesso potrebbe esserci, uno storno forte, intorno ai 3,280, è una bella zona, per comprare, con target, 3,70, ci sta tutto. Sul petrolio, sul petrolio, la situazione è questa, io, se non andiamo sopra i 90 dollari, rapidamente, ma, secondo me, lo facciamo, e, i prezzi possono arrivare, anche a 82, 78, sarebbe il top da comprare, con target 100, se poi rompiamo i 94, 100 dollari, ci arriviamo, situazione complicata, però, sì, il petrolio, in questa situazione, tendenzialmente, è destinato a salire, rapidamente. Una, che ti posso consigliare, Gert, è quel di guardarti, Chainlink, è molto interessante, per la struttura, e per il suo utilizzo, fatti uno studio, non è un consiglio, di investimento, ma questa te la posso dire, è molto interessante, per il lungo termine. Signor, io devo chiudere, spero che, la revisione, vi sia stata utile, abbiamo cercato, di toccare, i punti più spinosi, ripeto, i movimenti di breve, non ci interessano, però spero che il mercato, entro a fine mese, riesca a rimanere, cioè l'SP, per farvi capire, deve stare a di sopra, di questi benedetti, 4.500, del future, se riesce a mantenere, questi livelli, io non vedo più problemi, alla vista, e si può ripartire, poi, ovviamente andremo, step by step, vi ho nominato, i punti ciclici, da osservare, avete il forecaster, comunque a disposizione, usatelo, perché, vi aiuta tantissimo, da un punto di vista, volumetrico, vi ho detto, i livelli chiave, quei 4.200, DSP, sono un bello spartiacque, perciò, tutto quello che è in mezzo, in realtà, non c'è, ci interessa poco, in realtà, siamo sempre là, quindi, rimango positivo, rimango comunque, dell'opinione, che magari, non arriviamo a quei livelli, che vi ho detto, perché, andremo in ritardo, ma l'anno prossimo, sicuramente, potremo avvicinarci, molto ad essi, questa è la struttura, per ora, se ci saranno, cambiamenti importanti, vi ho dato i livelli, da monitorare, state molto attenti, e i sali e scendi, a noi non ci interessano, abbiamo bisogno, delle chiusure settimanali, che devono mantenere, tra l'uno i livelli di prezzo, poi, a livello di scalping, intraday, vi divertite tutto il tempo, che volete, quindi, se già, magari, Pawello oggi, ha dato una scossa, perché non lo so, che cosa ha detto, ma, probabilmente, se questi valori, vengono recuperati, e rotti, il gioco, il dato è tratto, quindi, io per ora, faccio solo short, intraday, finché lo sappiate, non vado a fare cose strane, perché non, non è un mercato, su cui mi voglia mettere, a giocare la pelle, multiday, perché, cambiano tutti, in pochi secondi, però, a livello multiday, dovete aspettare, ancora un po', prima di comprare, è giusto, che lo sappiate, quindi, aspettiamo fiduciosi, io sono, comunque, ottimista, e, sempre, ovviamente, realista, ma ottimista, quando ci rivedremo, a novembre, vedremo, se il mercato, è riuscito, a stabilirsi, sopra taluni, livelli, o meno, spero che sia stato di aiuto, questa analisi, grazie a tutti voi, come sempre, per la numerosa partecipazione, vi aspetto, per la Scampi in Line, il giorno 26, faremo anche poi, la live con Power, il primo di novembre, quindi, ci sarà da divertirsi, saranno momenti, belli intensi, e, detto ciò, ci vediamo presso, investire.biz, vi ricordo, l'appuntamento, ci vediamo a Milano, Palazzo delle Stelline, il 28 ottobre, il sabato prossimo, in ogni caso, alle nove e mezza, se qualcuno è di Milano, o in zona, ci vengo a trovare, l'evento è gratuito, faremo una conferenza, io e Enrico, e, ovviamente, vi farà piacere, anche parlare con qualcuno di voi, conoscervi di persona, grazie ancora, ah, Gilberto dice che viene, perfetto, grazie, se vi aspetto lì, allora, a presto ragazzi, buon trading, l'ultima riflessione, gestione monetaria, sta parola non ve la scordate mai, se non gestite bene i rischi, rischiate, cioè, di farvi, invece, male, quindi, occhio, a presto.